Ben trovati amici di InfoCilento, oggi vi mostreremo come preparare la famosa minestra amaretana. Nel Cilento basta una passeggiata in campagna per raccogliere buona parte della materia prima utilizzata per questa ricetta, infatti per la realizzazione avremo bisogno dell'uso di varie verdure fra cui molte di campo. Mi raccomando fatela insieme a noi e fateci sapere come la domanda. Ma non c'è mamma più, ma è foto tu, distrattamente piensa a me. Regine, quando stiva conmica, non mangiava capane e cerasa. Noi campavamo i vase, ecce vase, tu cantava e chianniva per me. Io cartilla cantava cuttica, reginello vò ben asturre. T'ha giù voluto bene a te, tu mi hai voluto bene a me. Ma non c'è mamma più, ma è foto tu, distrattamente parle. T'ha giù voluto bene a te, tu mi hai voluto bene a me. T'ha giù voluto bene a te, tu mi hai voluto bene a te, tu mi hai voluto bene a te, tu mi hai voluto bene a te. T'ha giù voluto bene a te, tu mi hai voluto bene a te, tu mi hai voluto bene a te. Grazie a tutti.